12 giugno 2013, torniamo da Sherwood Festival, questa grande giornata d'apertura dopo lo stato sociale, abbiamo l'onore di avere qui con noi, anzi avere di nuovo qui con noi gli amari, bentornato Pasta, bentornato Dario, sono passati degli anni, tipo 5, 6, non lo so, non me lo ricordo più, non guardarmi così mentre lo dici, sono passati svariati anni ma noi stiamo bene e vedo che anche voi siete in ottima forma devo dire, quindi siamo contenti di essere di nuovo qua. Non indossate più t-shirt colorate? No. È stata una caduta di stile o un guadagno? Sono tutte a lavare, sono tutte a lavare, si sono infeltrite, sono diventate pastello, vedi questa ad esempio era gialla. Questo è davvero interessante, anche perché loro non avevano quasi un'identità personale ma erano abituati ad essere riconosciuti spesso tramite colore, infatti questo ha causato dei problemi alla coloreria italiana che ha tentato di denunciarli durante il loro passaggio alla major ma questa è un'altra cosa. È una storia triste, sì sì. Lo so, è uscito un album da qualche mese ormai, lo avete presentato proprio qui a Padova, fra l'altro è stato molto carino da parte vostra, grazie. Sì, è stato molto bello e ci siamo divertiti, infatti è stato uno dei momenti più intensi di questo tour, almeno per quanto riguarda le date radiofoniche, stiamo parlando della data che abbiamo fatto a Radio Sherwood. Ma poi è successo, ad esempio sabato scorso c'è stato un altro grande ritorno, il ritorno sul palco del Miami, sul palco del Magnoli a Milano, è stata una bella cosa. Anche quello in effetti è stato un ritorno un po' alle origini perché più o meno è stata una delle prime grosse date che abbiamo fatto quando nel 2005-2006 abbiamo cominciato a portare in giro Grandmaster Mogol e è stato bello forse anche più di allora, anzi sicuramente più di allora perché c'erano un sacco di amici vecchi e di amici nuovi che sono venuti a sentirci e una bella sensazione, una bella sorpresa. Sì, un sacco di persone commosse con le lacrime. Sì, in lacrime, abbiamo scoperto che ci piace far piangere la gente. Il prossimo quindi sarà un album emo? No, sarà un barattolo con della crema di cipolle da spalmare. Perché succede che appunto con tutte queste lacrime indotte o meno, succede che voi vi siate già incontrati perché non state più fermi a questo punto, non so se si tratta di una sorta di Parkinson musicale ma avete già composto qualcosa di nuovo. Delle suonerie telefoniche abbiamo composto e delle basi da piano bar per matrimoni, sono le nostre nuove orizzonti esplorativi musicali. Credo che Dario possa confermare. No, vabbè, a parte gli scherzi, ovviamente non stiamo fermi, c'è qualcosa che bolla in pentola, però insomma è un po' presto per parlarne, però sì, stiamo già lavorando roba nuova, materiale nuovo. E questo chilometri portato su strada, perdonatemi lo sciocco, gioco di parole forse peggiore di quelli precedenti. E non è da te, più che altro non è da te. No, grazie, lo so, grazie per la stima. Un po' feci che tiri fuori queste... Sì, ma appunto dopo tutti questi chilometri, come suona nelle vostre orecchie chilometri? Devo dire suona... sì, per ora si difende ancora bene. Poi noi, giustamente anche essendo un po' delle teste di ci stufiamo subito, per ora non è ancora successo, devo dire, c'è ancora un rapporto così di amicizia, ma anche ci studiamo ogni tanto, ci guardiamo anche male, però... Ogni tanto io gli chiedo scusa, cose di questo tipo. Piangiamo la notte, diciamo no, cosa ho fatto, però... Ma questo, insomma, questo insistere nell'essere pop all'indomani della divisione irreparabile, ad esempio tra Paola e Chiara? Ma non è vero, tra l'altro. Confermo che non è vero, era solo per vendere due copie in più. Ah, ok, va bene. Però c'è rimasto male. Un pochino sì, quasi un minuto. Poi mi è passato subito, però. Questa è una cosa che ti fa ancora più onore. Pertanto, la vostra attività collaterale, fuori dagli amari, quella di fare i DJ, quella di continuare a creare, dove vi ha spinto in questo periodo? Ci ha spinto, non lo so, a provare tutto quello che non avevamo ancora fatto con gli amari e poi a renderci conto che comunque non bastava e c'era ancora una lunga lista di cose che volevamo fare anche come gli amari. E quindi niente, lo stiamo facendo. Non so bene cosa sia tutto questo, ma lo stiamo facendo. Mi state togliendo delle soddisfazioni lavorative? Beh sì, dai. Insomma, quantomeno è incredibile, almeno per noi, arrivare al punto di dire, beh, viviamo di musica, non necessariamente della band, ma comunque viviamo di musica. E questa cosa è, cioè, campare si intende, non vivere, non è che mi metto gli occhiali da sole e andiamo a Portofino, no. Ma in tutto questo, l'essere arrivati dal Friuli, quanto ha contribuito? Ma non lo so, per alcune cose sicuramente ti dà una marcia in più, perché comunque è una zona, è un posto dove c'è così poco, che se vuoi qualcosa lo devi volere veramente e devi anche ingegnarti per ottenerlo. Per cui sicuramente non è una terra dove c'è la pappa pronta, ecco. Ci ha dato un po' di grinta, credo. Secondo te, Dario, lo spostamento bolognese tuo che cosa ha portato? Beh, ha portato... Voi esistete da abbastanza, cioè, come Amari, state andando avanti comunque da... Mi stai dicendo in quale fase, lo spostamento da Udina a Bologna o da Bologna? Quando sei arrivato da Udina a Bologna? Eh, molto, scoprire delle cose, rompere le balle a loro, ho scoperto queste cose, devo farlo... Sperimentare un sacco di cose. Sperimentare un sacco di cose, andare, capire anche... Cioè, sai, finché non arrivi in una città, e Bologna comunque negli anni 90 era una città, con tutti i crismi, non sai neanche quanta dimensione mitica può avere un posto, se non ci vai. Una volta che ci vai e ci vivi un po', metti anche i piedi per terra. Beh, sicuramente è stata una crescita per me, vabbè, ma... Come per tutte le cose che succedono ai componenti di una band, fanno crescere anche... O la band, o anche non farla crescere, insomma, non è... È stato sicuramente in qualche maniera edificante per il progetto Negramari. Edificando per chilometri, e quindi, insomma, disboscando un po' l'area circostante, quali pezzi sono cresciuti di più di questa chilometri? Vi rifaccio la domanda che vi ho fatto all'inizio, tanti mesi fa, quando il disc usci... Ma noi comunque non l'abbiamo capita, nel senso, da allora... No, qual è il pezzo che vi sta prendendo di più cresciuto sul palco e adorato come fosse un pezzo di Brian Adams? Vedo certezza in Dario, quindi risponderà lui, sì. Beh, sicuramente, ve lo dico sicuramente perché in realtà, ultimamente, a ogni data, ci rendiamo conto che su quel pezzo un po' le persone si gasano e ci gasiamo anche noi a suonarlo, che è il bicchiere mezzo vuoto. Molto, molto bene. La ballata del bicchiere mezzo vuoto. Benissimo. Proprio così. E il riarrangiamento dei pezzi vecchi, come ad esempio Campo Minato, o come uno un po' meno vecchio, come può essere Gite Fuori Porta? Eh, ma qua è tutto talento del buon Simo, che è il nostro ultimo acquisto della banda, che salutiamo e ringraziamo ancora per la sua magnanimità. Il nostro dottor Manhattan della musica. Perfetto. Dopo aver parlato del dottor Manhattan, a questo punto non si può parlare di un aspetto molto importante degli amari, che è anche l'aspetto festoso. Voi eravate famosi anche per magliette che non solo indossavate, ma magliette che avete sempre disegnato, con degli slogan, eccetera. Per questo chilometri abbiamo una copertina di un album sfoggiato sulle maglie, e i vostri slogan per questo 2013? Ma è un anno senza slogan, secondo me. È molto figurativo. È uno slogan senza slogan. È uno slogan senza letto. È uno slogan senza letto. È un letto senza letto. È un letto senza letto. Per citare il maestro, naturalmente. Bene, molto molto bene. E per quanto riguarda le previsioni per il futuro dell'evoluzione di questi pezzi sul palco, rivoluzioni vere nell'esecuzione? Ma rivoluzioni non credo. Sicuramente porteremo alcuni altri pezzi sempre da chilometri, che ancora non abbiamo sfoggiato sul palco. Ci saranno altri ripescaggi di pezzi di altri dischi, perché comunque è divertente anche cambiare. Poi comunque anche la gente che ci viene a sentire ce ne chiede altri, quindi ogni tanto ci dobbiamo ingegnare a tirarli fuori dalla soffitta, a togliere la naftalina. E poi chi lo sa? Vedremo cosa succederà. Sorprese. Bene, ragazzi. Qui Charwood Festival Padova terminerà il 12 luglio. Oggi è il 12 giugno. Voi iniziate questo mese assieme allo Stato Sociale. È un piacere ritrovarvi qui e riascoltarvi qui. Beh, è un piacere nostro anche perché io la prima volta che sono venuto a questo festival era nel 95. Per chi è uno storico del festival era ancora al Parco delle Roccaiette. Per cui sì, sono contento di suonare in questo festival, che comunque è una storia. Ha una storia e in qualche maniera fa parte della storia della musica italiana anche, perché insomma ci hanno suonato un sacco di band e siamo contenti. Quante parole. Molto bene, ragazzi. Grazie agli amari. Grazie a voi. Vi vedremo sul palco per chilometri, che in questo caso non è la lunghezza del palco, ma il titolo di un album. L'ho detta. Grazie pasta. Grazie Dariele. Grazie a te, mamma. A dopo. E grazie a Sherwood. Ciao. 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 Ciao.